Allora, siamo con l'ingegnere Massimo Coccato della Beta Studio SRL e a voi il compito di realizzare il progetto preliminare per l'idrovia Padova Mare. Che cosa si vuole fare? Dunque, abbiamo assolutamente la necessità di realizzare in tempi anche celeri il progetto preliminare dell'opera, un'opera attesa, importante, sulla quale la Regione del Veneto spinge molto, ci crede e quindi tutto sommato ci sono le condizioni per poter arrivare a definire, pur in via preliminare ma comunque compiuta, un'opera che da troppo tempo stiamo tutti attendendo. Ecco, senta, ingegnere, di quello che c'è presumibilmente si terrà qualcosa o verrà eliminato tutto? No, l'obiettivo è tenere il più possibile tutto quanto è già stato realizzato. Evidentemente le prime attività che stiamo realizzando sono proprio quelle di capire cosa potremmo mantenere e cosa necessariamente dobbiamo abbandonare. Però l'obiettivo è quello di cercare di far utilizzare, rendere al meglio quello che già c'è. Ecco, senta, in termini di tempi, presumibilmente, quando è che si potrà, come dire, iniziare l'opera? L'opera necessita di un iter lungo, complicato, sono opere rilevanti e non facili. Direi che un arco temporale di cinque anni è quello che potrebbe essere necessario sia per completare tutte le fasi della progettazione che per raggiungere il finanziamento dello stesso. Nessuna opera può partire senza, nemmeno a livello di progettazione esecutiva, senza la certezza del finanziamento. Grazie.